Serie B-Win, appassionati. Il cronometro parte Cittadella Novara. Fischia Battista, la rincorsa di Paolo C, la battuta sul primo palo, balla allontanata. Il tentativo con il destro ed il vantaggio dopo sei minuti arriva il vantaggio della Cittadella. La rete dell'uno a zero sugli sviluppi di un calcio d'angolo porta la firma di Schiavon al quinto gol in questo campionato. Eros Schiavon. Sfiora Seferovic, pallone in aria, la giocata di Gonzales, col piattone mancino alto. Seferovic, il taglio dentro, l'epile, il tocco sotto, la risposta di Kordazza. E poi il fischio, c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore per il Novara. Potrebbe cambiare tutto perché non solo il tiro dagli 11 metri ma anche il cartellino rosso per Kordazza. Buzzegoli dal dischetto, pallone da una parte, portiere dall'altra. Il pareggio del Novara dopo 33 minuti porta la firma di Daniele Buzzegoli. Dentro a cercare Marianini, prova il cross morbido, il colpo di testa e fanno due. Il raddoppio della Novara che al minuto 37 completa la rimonta proprio con l'epile. Stavolta, gol tutto suo, senza alcun dubbio, la sesta rete in campionato per lui. Vesce dentro, l'inserimento, la grande risposta di Piero Bonna. Fischia Battista intanto comincia la ripresa di Cittadella Novara. Prova con il destro, la rete del 3-1. Dopo poco più di due minuti, Piero Bonna tratto in inganno. Arriva il terzo gol. Va a puntare Coli, entra in area di rigore. Palla dentro per Fernandes. La risposta è il gol del 4-1. La rete di Bruno Fernandes. Il tap-in vincente sulla risposta di Piero Bonna. Terzo gol in campionato per Bruno Fernandes. Attenzione intanto, a Di Roberto. La chiusura di Bardi. Arriva il 4-2. Il sigillo di Samuel Di Carmine. Cambia tutto. La sponda, il pallone dentro per Rubino. E fanno 5. Arriva la rete anche per Raffaele Rubino. al minuto 40 della ripresa. Chiede palla. Pablo Gonzales riceve posizione regolare per lui. Mette a sedere Piero Bonna. E fanno 6. Arriva la rete del 6-2. Si chiude il primo set al tombolato con la firma di Pablo Gonzales. Un solo minuto di recupero. Arriva il triplice fischio di Abattista. Al tombolato il Novara dilaga e vince per 6-2.